Democratico. Dichiaro ufficialmente e solennemente aperta l'asta della paliglia. Il pezzo all'asta è questo pregiadissimo appartamento. Ci aspettiamo numerose offerte. Questo stabile non è per tutti, ma sempre per i soliti. Una cosa così, al Colosseo, la vorrebbero tutti, ma non l'avranno. Io pensavo di proporre 500 euro per questa casa, sì, 500 euro. 500 euro è l'offerta della signorina Gracia. Vorremmo avere anche un bambino, ma come fai a che c'è un bambino senza una casa? O paghi la casa o paghi il bambino. 700 euro è l'offerta, signori, è un pezzo pregiato, l'acquario con la nemole di mare. Io sono lavapiatti, se no mi dovrò capire a casa dei miei. Un lavapiatti? Un lavapiatti, 750, sono due mesi della volta, però c'è la palla. Come cosa succede? È sempre la sua rivestita della nostra. Sta perpetrando un'ennesima giustizia. Davanti, falla l'attacca! Davanti, falla l'attacca!